wow che bella ah ecco, non c'è un camattopodra eh sì eh ah 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 si è forte chiedo scusa allora io vi dico una cosa io ringrazio loro ringrazio voi è una giornata full particolare doveva essere tutto un po' diverso ma ci siamo arrabbattati come si dice mai morai? mai grazie per esserci grazie a voi grazie a voi bravi bravi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie